Ma ora sinceramente io prima di parlare della Fiorentina a questo punto faremo complimenti al Chievo perché se la Fiorentina non si è espressa su livelli che tutti quanti noi potevamo immaginare perché gran parte il merito va al Chievo, è chiaro che loro stanno passando un momento molto molto particolare e mi auguro per loro che la tempesta passi in fretta. La tempesta, grazie.